Ieri non si festeggiava solo il San Valentino. La Chiesa Universale ricordava infatti altri due santi molto significativi per la storia europea, i fratelli slavi Cirillo e Metodio, che Giovanni Paolo II ha proclamato compatroni d'Europa. Cirillo e Metodio, fratelli greci nativi di Tessalonica, la città dove visse operò San Paolo, fin dall'inizio della loro vocazione entrarono in stretti rapporti culturali e spirituali con la Chiesa Patriarcale di Costantinopoli, mantenendo però il loro servizio missionario in unione con la Chiesa di Costantinopoli sia con la sede romana di Pietro, dalla quale furono confermati, manifestando in questo modo l'unità della Chiesa. Ieri Papa Francesco li ha voluti ricordare nella loro opera missionaria nel corso dell'Omelia a Santa Marta. Non si può pensare a un cristiano fermo, un cristiano, ha detto il Pontefice, che rimane fermo e ammalato nella sua identità cristiana a qualche malattia in quelle identità. Il cristiano è discepolo per camminare, per andare. Dunque, un primo atteggiamento dell'identità cristiana è camminare. E camminare anche se ci sono difficoltà, andare oltre le difficoltà. Un secondo aspetto è che il cristiano deve rimanere sempre agnello. Il cristiano, ha riaffermato, è un agnello che deve conservare questa identità. Il Signore ci manda come agnelli in mezzo ai lupi. Come agnelli. Non diventare lupi, perché a volte la tentazione ci fa pensare, ha osservato il Pontefice. Ma questo è difficile, questi lupi sono furbi e io sarò anche più furbo di loro, eh? Agnello, non scemo, ma agnello. Agnello, con l'astuzia cristiana, ma agnello sempre. Perché se tu sei agnello, lui ti difende. Ma se tu ti senti forte come il lupo, lui non ti difende, ti lascia solo e i lupi ti mangeranno crudo. Terzo aspetto di questa identità è lo stile del cristiano, che è la gioia. I cristiani, ha affermato il Pontefice, sono persone che esultano perché conoscono il Signore e portano il Signore.